Più bella, più estesa, più attrattiva. Sono queste le parole dell'assessore regionale alle infrastrutture Baldelli per definire la nuova ciclovia del Metauro, approvata questa mattina in Regione. Un tracciato di 74 km che attraversa 10 comuni e che si collegherà con la ben più estesa ciclovia adriatica. Il finanziamento stanziato oggi, pare alla cifra di 6,5 milioni di euro, coprerà la realizzazione del percorso per 35 km. Ovvero il tragitto che va da Fano a Fossombrone, passando per Cartoceto, Colle al Metauro e Monte Felcino. Un nuovo modello nella concezione delle ciclovie della Regione. Una ciclovia del direvertimento, una ciclovia turistica ma anche una ciclovia urbana con forti elementi identitari per la città di Fano che uniranno il mare al centro storico, il centro storico al grande parco urbano su cui sta lavorando la città di Fano ma anche al quartiere più popoloso della città, ossia il quartiere di Sant'Orso. Saremo in grado quindi di soddisfare diverse esigenze ponendo al centro delle interconnessioni ciclabili proprio questa ciclovia. Perché? Perché il protocollo firmato oggi con l'amministrazione comunale di Fano si inserisce anche nello sviluppo della ciclovia adriatica. Infatti con il sindaco Seri abbiamo parlato anche della realizzazione del nuovo ponte ciclabile sul fiume Metauro e quindi è veramente un passo in avanti la sottoscrizione di questo protocollo perché si passa dalle parole e i fatti, quelle parole che non avevano in passato disegnato nemmeno un metro della ciclovia del Metauro. Un finanziamento da parte della Regione Marche che prevede che 3,9 milioni di euro dei 6,5 complessivi vengano destinati al Comune di Fano. Un'infrastruttura importante per la nostra città ma mi viene da dire per il territorio perché collega una serie di piste ciclabili, collega quartieri della nostra città ma soprattutto valorizza anche tutta una serie di infrastrutture e di spazi anche belli ambientalmente parlando come il nuovo parco dell'aeroporto nella nostra città. Un circuito importante per chi vive il territorio, per chi vive la città ma è importante anche in termini di accoglienza per non dimentichiamo che siamo città turistiche e quindi anche per coloro che sceglieranno di venire a fare le vacanze nel nostro territorio troveranno una rete di ciclabili interessanti, belle da vivere e che ci fanno assaporare anche l'ambiente che ci circonda.